cosa c'è di più piacevole che mettere via le scarpe chiuse e iniziare a mettersi sandali infradito stare a piedi nudi finalmente i piedi respirano sono liberi e non è solo piacevole ma anche sano quando i piedi sono chiusi nelle scarpe si crea umidità e questo è terreno di coltura per batteri e muffe lo sapevate no la naturopatia ci spiega se non laviamo questi microorganismi ogni sera durante la notte attaccano la pelle e l'organismo e impegnano continuamente il sistema immunitario inquietante non ci avevo mai pensato cosa dobbiamo fare ecco cosa fare ogni sera prima di andare a dormire fare un pediluvio di tre minuti basta mettere un cucchiaio di bicarbonato in due litri di acqua tiepida non troppo calda e immergere i piedi con l'occasione chiudiamo gli occhi respiriamo a fondo e ci rilassiamo che ne dite così diventa un trattamento spa completo puoi asciugare bene applicare una crema o una polvere con oli essenziali naturali i migliori timo e tea tree oil è anche un modo per combattere o prevenire micosi e avere piedi perfetti se ami la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao